Il mese della cooperazione sociale, il mese culturale, apre oggi e si conclude con il 12 novembre, il giorno dell'estate di San Martino. È un momento culturale dove la cooperazione sociale vuole incontrare i cittadini, il tema è dialogare, su un argomento che in questo momento riteniamo sia importante e fondamentale anche proprio per costruire quello che sarà il futuro. Ed è il tema un po' dell'essere felice e della qualità della vita. Saranno una quarantina di eventi che vengono portati su tutto il territorio, sono promossi dalle cooperative, quindi organizzati e gestiti direttamente dalle cooperative, ma dentro un unico obiettivo, avvicinare ogni cittadino all'idea che il bene comune è qualcosa che dipende da ciascuno. Questo elemento, oltre a garantire un futuro di qualità, anche dentro un tempo dove le risorse appaiono limitate, è anche una modalità che poi rende felice l'individuo. La ricetta è molto semplice, se mi impegno per gli altri, se dedico anche una parte minima del mio tempo, probabilmente la mia vita sarà più felice.